Grazie Presidente. Non meriterebbe risposta il consigliere Marrone perché mi sembra banale e al tempo stesso frutto della fatta che ha capito che non potendo più usare il posacenere per reggere la cenere di Borsi, li hanno probabilmente sostituiti con questi bicchieri di carta che all'uomo possono anche servire, ma sempre lì a reggere la cenere del sigaro o della sideretta di Salvini siete. E quindi la cerca di nascondere con io non ho nessuna difficoltà, caro Marrone, a ripetere quello che ho ripetuto qui a fine luglio. Cioè io ho fatto tutti i passi indietro dal punto di vista politico che ritenevo e ritengo giusto fare, tant'è che non ho cariche nel gruppo e ritengo utile restare in disposizione nel mio gruppo fino a quando il mio gruppo, e se posso dire la coalizione che mi ha sostenuto, non vittorio da me, purtroppo, riterrà che il mio contributo possa essere utile. Questo se permette lo desideremo insieme noi e non lo desiderà lei. Grazie.